Vi faccio vedere come con lui. Praticamente, adesso lo apriamo assieme, è un nastro che si mette tranquillamente sul seno e non fa male, vi permette di tirare sul seno. In quali modi? Vedete, ci sono tutti questi modi, a seconda appunto della scollatura. Io penso che farò tipo una roba del genere, così, perché deve stare abbastanza, vedete, aperto qua e anche qua. Cioè, insomma, non si deve vedere, quindi lo metterò tipo questi lati qui. Però, vedete, se avete anche tipo qualcosa che è scollato sulla schiena potete metterlo così, oppure qualcosa di molto scollato, tipo su questa parte qua potete metterlo così. Quindi, eccolo, vedete, questo qua è il nastro, devo ancora aprirlo, però avevo già uno dei loro prodotti ed è veramente, veramente ottimo, quindi lo straconsiglio. Tra l'altro ho preso anche loro, che se non sbaglio sono i copricaprizzoli. Eccoli qua, davvero comodissimi. Comunque io vi lascio il tag della pagina e lo swipe, così potete andare a vedere tutti i loro prodotti.